Ma ciao e bentornati in un nuovo video! Oggi svuota la spesa da MD, ma tutto questo dopo la sigla! Ebbene sì, cari e care, sono stata da MD e ho speso 51,24 euro Ed ho avuto due cartoline che gratteremo insieme a fine video Vi faccio vedere in velocità cosa ho preso e porto sempre, come al solito, da cose che vanno in frigo Era in offerta l'arrosto di tacchino a 99 centesimi e ne ho prese due confezioni I ravioli al salmone che non li avevo presi, erano una novità I gelati, questi qui mi ricordano dei gelati famosi e speriamo che sono buoni Fino adesso non mi hanno deluso gli altri che ho comprato Ho trovato il bacon a fette leggermente affumicato per fare la colazione americana Quando tornerà Siri, secondo me, sarà super mega contento Per domani colazione americana Ne ho prese pratine e ne ho prese due Jodie gradisce queste mozzarella Anche per lei ne ho prese due confezioni Coppa cacao Questa settimana è la settimana del compleanno di Siri Quindi voglio coccolarlo e quindi ho in mente di fargli trovare delle piccole sorprese ogni giorno Fino ad arrivare al suo compleanno Quello è ricotta e spinaci Anche questi presi per la prima volta vi farò sapere come so Altro prodotto in offerta che mi ha ispirato è pasta fresca di semola di grano duro Gli sciagliatelli Lana badana Lo strutto Ho preso dei salumi in offerta Un prosciutto crudo di norcia Poi del prosciutto cotto parmacotto E ho preso delle olive condite meravigliose Spero siano buone anche queste in offerta Pecorino romano Questi sono stra buoni ragazzi Se non avete vedi Sono veramente molto buone Carote Queste qui E questi erano i miei prodotti da frigo Vado a riposizionarli in frigo E torno subito e vi faccio vedere il resto della mia frigo Eccomi qui Proseguiamo con la mia spesa Questa è pesantissima Pensate che io vivo al secondo piano senza scensore Vedi prendo così ma meno che la vado svuotando l'alzo Ho preso questi fagottelli questa volta con la crema e lampone Secondo me sono super mega buoni Ne ho presi due confezioni Anche l'altra non era male con la mela Quindi adesso li ho trovati al lampone Le ho presi al lampone Le carri che li riconfermo Ve li ho già fatti vedere Sono super mega buoni Questi plum cake Integrali con zucchero di canna Li riconfermo Adesso sono in offerta a 99 centesimi Infatti ne ho presi due confezioni Il caffè che adoro Vado velocemente Questo qui Quello di Siri E quest'altro Pane con le olive Buonissimo Riso basmati Queste patatine Che sono buonissime Sono come le ponzies Già ne ho mangiato un pochino E devo dire che sono pericolose Perché sono veramente molto molto buone Ho trovato questo sapone liquido per le mani Fragore e panna Ed è fantastico L'odore è meraviglioso Sale iodato Tortillas Erano in offerta 69 centesimi Il mio latte preferito Di questa qui Praga Vediamo un po' come sarà Un prodotto per pulire il WC Una coca cola Le zucchine che ho sbagliato Busso della spesa Ma in velocità può capitare Quindi queste le devo portare immediatamente Il paulezzo Questa volta Ha i cereali non integrale Ho voluto cambiare Per provare anche questo pane E del tonno a naturale Questa era la mia spesa da MD E dimenticavo una cosa importante Perché è fuori Ho preso questa palla a Jodie del LOL Surprise E questa qui l'ho pagata 3 euro E lei è impazzita Perché mi piacciono tanto le LOL Bene Questa era la mia spesa da MD Adesso andiamo a grattare insieme il gratto e vince Vediamo se questa volta sono stata più fortunata della volta Andiamo a grattare la prima cartolina Scopri subito se hai vinto Vi informo che la scorsa volta non ho vinto nessuna macchina Ora vediamo Vediamo Questa volta se sono fortunata Grattiamo insieme Non ho vinto neanche questa volta Questo codice lo giocherò online Vediamo se la fortuna mi assisterà questa volta Andiamo alla seconda cartolina Che dite? Questa sarà fortunata? Vediamo Non ho vinto ragazze Non è giusto Ho visto che ci sono stati molti signori Che hanno vinto E si sono fatti la foto con la cartolina vincente Ragazzi Qualcuna vincente in Sicilia Mandatela Vi ricordo che avete tempo Se volete Insomma Curiosare Fare la spesa E giocare Questo gratta e vinci Da MD Che avete tempo Fino al 26 di maggio Per Per avere anche voi Con 25 euro di spesa Una cartolina Bene ragazze e ragazzi Vi mando un bacio grande E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.